Musica Hello guys, Renderna here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Allora, sono andato a controllare un po' il query Che ha finito, prima di tutto Ma ci ha trovato anche un bel po' di tin In realtà erano 20 pezzi, non era proprio un bel po' Era un po' di tin Però fa sempre comodo E quindi ovviamente noi la mettiamo un po' a cuocere Anche perché, se vi ricordate, avendo fatto il... Come si chiama lì? Il query, no, il query Sì, il query, ma soprattutto i motori Ecco, che ce l'hanno portato via tanta tanta tin Ovviamente abbiamo... E l'avevamo finita Allora, vi faccio vedere che cosa mi è stato dato dal buonissimo amico Mk Che è un oggetto che abbiamo trovato Nella bellissima Twilight Forest Che sarebbe questo Maids Map Maids Map Focus Che serve per fare l'uncrafting table Adesso la facciamo al volo Un crafting... Eccola qui Allora, per fare l'uncrafting table Dobbiamo fare 8 crafting table Che facciamo al volo E poi dobbiamo metterci in mezzo a questo coso qui Che ti pareva che non avevamo legno per farne giusto? Ma poi abbiamo altro tin Tin Oh my god, tin Il tin mi fa impazzire Tipo, è tin No, proprio Perché fa tin tin Ah, come sei divertente Renda, mamma mia Le mie battute diventano più squalli Di ogni... Ogni cazzo di episodio che passa Allora, forse avevo un po' di legna Nel sawmill Oh yes Oh yes baby Oh yes Perfetto Thank you very much Ok Allora, facciamo così Ci facciamo Ci facciamo Un'altra crafting La mettiamo qui Perfetto Ci mettiamo in mezzo Questo è Papam Un crafting table Faccio vedere che vedete Per i... Ehm Livelli Possiamo prendere i pezzi Della roba Ovviamente delle mod No Però comunque Di alcune mod No, eh Ehm Comunque Della roba che ci interessa È molto molto interessante La mettiamo Qui No, la mettiamo qui Ah, qui ho tutti i resti Della roba che abbiamo preso Tipo alcuni Tipo l'armatura Se vuoi così Ma non interessa Oggi dobbiamo andare a fare un po' di legna Quindi Waypoint Foresta No, con la Kimbo Foresta Olè Dobbiamo fare un po' di legna Perché dobbiamo fare della legna? Vi starete chiedendo voi Perché Dobbiamo fare lo smistamento chest E ci serve la legna per i barrel Quindi facciamo lo smistamento chest Oh, ecco qui Siamo così Bellissimo Noi tranquilli Tranquilli Ci mettiamo a togliere tutta Questa bella legna Ce ne serve tipo un botto Noi abbiamo la nostra bellissima motosega Che sega il tutto Non venite a fraintendere Molto molto velocemente Quindi siamo anche molto felici E una volta che avremo fatto lo smistamento chest Saremo piuttosto Piuttosto a buon punto Perché con quello possiamo iniziare a Vedere tutta la parte ecco Di Minecraft Che per adesso non avevo trattato Che è quello del mega farm Industriale Di tutto Praticamente Quindi Query Che abbiamo fatto prima E il Poi andiamo a fare Delle tartole Andiamo a fare un po' di cose simpatiche Però senza un buono smistamento Che mi raccoglie il tutto Diventava davvero difficile Bross Perché vi state chiedendo voi Perché non c'avevo spazio Semplicemente Qua lagga Che è uno schifo Ma che cazzo c'ha il server oggi Oh Repigliate Grazie Ah metti questi via Ci serve Ci serve Ci serve Della legna Della legna Della legna Ok Allora il Query ha proprio finito Quindi lo dobbiamo spostare Ma prima di spostarlo Sinceramente Preferisco Ehm Attiamoci un attimo questo Rompiamo una foglia Ok Ehm Prima di spostarlo Preferisco Farci il nostro bellissimo Smistamento Chest Perché sennò davvero impazziamo E facciamo uno bello Bello sistemato Sistemato ovviamente Ehm Con i barrel Con un timer Con Ma mio dio I timer Ehm I miei vecchi amici Anzi I miei vecchi nemici Più che altro Però comunque Andiamo a fare Un po' di timer Andiamo a fare Filtri Andiamo a fare L'ender chest Ce l'abbiamo già Andiamo a fare un po' di stronzate Che Ehm Tornano sempre molto molto utili E Quindi nada 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 Sono davvero davvero felice Di iniziare a fare anche questa cosa Perché era una cosa Che mi riprometteva da tempo Di fare E Ehm Non l'ho fatta Non l'ho più fatta Ecco diciamo che Mi sono sempre Messo davanti Altre cose Che potevo fare Altri impianti Molto più Necessari Ecco per il momento Mentre per Ehm Per lo smistamento Non mi sono mai poi Preoccupato più di tanto Quindi adesso Andiamo a fare Il nostro smistamento Cestolo Ehm Vediamo un attimo Che cosa ne esce Allora Io ho quanta legna Ho Ho quasi Una stack e mezza Prendiamo Mh Cerchiamo di arrivare a due stack Il legno Non lo possiamo craftare In nessun modo Mi sa Quindi Mh Ci dovremmo fare Guys Una farm Ehm Adesso Più in là Adesso non voglio farlo adesso Adesso non voglio farlo adesso Più in là Voglio fare una farm Di diamanti Come direte voi Eh io me la sto studiando In realtà Ehm E penso di essere anche a buon punto Però Non la voglio fare per il momento Per il semplice Per il semplice Per la semplice cosa Che se farm C'è una farm Di diamanti Si toglie un po' Tutto il gusto Del Del gioco Quindi aspetta ancora un po' Facciamoci almeno un'altra ventina Trentina di puntato E poi Poi la faccio Però vi Vi giuro che se Riesco a farla Come voglio io Esce qualcosa di fucking epics Davvero Esce qualcosa di Fottutamente epico Vabbè Allora Dovremmo esserci Perfetto Andiamo a casa Ok Allora Dobbiamo fare dei barrel Iniziamo a fare la cosa Più importante Del nostro Ehm Smistamento Le ceste Vero e proprio Quindi barrel Barrel Oh Ecco ce l'ho qui Che se fa così E' un Un plank Plankoso Allora io direi Che ci facciamo Due stack di 64 E le Le teniamo lì Questo Ce lo Sommigliamo Che sei alla botta Sono comodi Allora Andiamo qui Spostiamo questa Netherrack Anzi spostiamo questi Mettiamo Questa bellissima Legna Che andrà Messa come Così Adesso non ricordo Ehm Andrà anche Nei lati E sopra Va messo Quella roba là Quindi Facciamo così Andiamo a prenderci La legna Sperando che abbia Già finito Ma non penso Perché ho capito Che è veloce Ma non è gesù Dai muoviti Bella De papino Questo si è riempito Di nuovo Ok Pensavo di farne un altro Penso che ne farò un altro Nella prossima Puntatona Ehm Allora fermi Perché questi dobbiamo Prima craftarci Quell'altra roba Giusto Che si fanno così Perfetto Ne facciamo un po' Ok Perfetto Barrel Ci facciamo Tutti i barrel Che riusciamo a fare Che sono 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 17 Ehm Perché manca Manca legno Cioè Di già Costa così tanto Sta roba bro Costa così tanto Questa roba Si Ne abbiamo fatti Solo 20 Allora Qua giù Se non vi ricordate Ma se non vi ricordate Ve lo ricordo io Prima di tutto Andiamo a controllare I tank Pieno Pienissimo Perfetto Andiamo di sinistra Perfetto Qui avremo Il nostro smistamento Chest Che partirà Probabilmente Da O qui O qui Comunque Noi iniziamo A mettere Delle chest Qui Ok Perfetto Che poi Continueranno Di qui Ok E poi Gireranno Così Immagino Quindi ne abbiamo Piazzate un pochino Vediamo poi Come fare Allora Per fare questo smistamento Ci serve Un ender chest Che abbiamo su Quindi la andiamo subito Subito a prendere Poi ci serve Un timer Un timers Un timers Assolutamente Un filtro Allora Thank you E poi mance Come direbbe sempre Luke Andiamo giù E mi fa ridere Quella cosa Non capisco Per chi Mi fa ridere davvero tanto Ok Qua abbiamo La nostra Bellissima Ender chest Che non si vede Ok Era un po' timida Però dovete Oh mio dio Quanti dark Cycorium Interessante Possiamo fare tante Tante valvole Bene 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 Ok Allora Andiamo Andiamo qui Allora 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 Io direi Io direi Io direi Che Sasha Gray Eh no Non c'entra niente Stavolta Sasha Gray Purtroppo Andiamo a mettere a posto Questa roba Ok Questa roba La lasciamo qui Così Buona Buona Perfetto Allora Sono con Marcus Crohan Nel server Quindi non possiamo dormire Qua i motori vanno a bomba Tutto il giorno Perché si E perché è più bello Comunque Allora Cosa ci serve Per Il tutto Ci serve Un timer Un timer Ok Che possiamo fare anche dopo Prima ci serve Assolutamente No Ok Ci serve un filter Filter Ok Perfetto Un filter Un filter Allora Io mi ricordo L'altra volta L'avevo fatto con il sorting machine Messo vicino alla cesta Che sputtava fuori la roba Volendo potremmo anche farlo Sorting Ok Facciamo il sorting machine Sorting Ok Eccolo qui Sorting machine Che poi va alimentato Quindi iniziamo a fare il sorting Poi vediamo Allora Serve del ferro Questa roba qui Che si faceva Con una seghettina di diamanti E Questo Che si fa 8 8 Quest 8 Coal E 8 sabbie 8 coal 8 pezzi di sabbia Sabbia Abbiamo 4 Ne facciamo altri Ne facciamo altri 4 Allora Facciamo così Cobblestone Grass Sand Perfetto Allora Con questa Nell'alloy for nace Facciamo Decisamente Quei siliconi La Che ci serve Poi andiamo Andiamo a fare Il retriever Ehm No scusate Il retriever Il filtro Dobbiamo fare E il blue alloy Allora Vediamo un attimo Il filtro Ehm Si fa così Perfetto Oro E questa roba qua Ok Allora Un pistone Facciamo al volo Un pistone E poi chiudiamo La puntata Questi li andiamo A mettere Ok Abbiamo qua Abbiamo del legno Perfetto Facciamo al volo Un pistone Un pistolone Allora Facciamo un pistone Anzi ne faremo Due per sicurezza Quindi Due di questi E due di questi Non se sa mai I pistoni servono sempre Quindi Così Perfetto Abbiamo il nostro pistone Poi dobbiamo preparare Il crafting Fatto così Allora Mettiamo questo qui Poi cobblestone Tutto intorno E ai fianchi Due pezzi di oro Che ne abbiamo Proprio pochissimo Addirittura Due pezzi di oro E sotto Dobbiamo andare a fare Il tutto ciò Allora Fermi tutti Perché dobbiamo Trasmutare del ferro In oro Che No Dobbiamo trasmutare Tanto ferro In tanto oro Purtroppo Quindi Andate così Allora Trasmutiamo Un bel po' di ferro In oro Potrei andarlo a chiedere A Luke O prendermelo Dalla farm Ma No 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 Cazzo Sarola Sarò idiota Sì Sarò proprio idiota Ho sprecato un botto Di ferro Mannaggia 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 Allora To Fammi l'oro Ok Ok Allora Adesso devo fare I diamanti E me ne faccio solo uno Per di più Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Vabbè E' quello che ci serve Comunque Perché dobbiamo fare La seghettina Si fa con due o tre diamanti Adesso non ricordo Due mi sembra Comunque Un diamante Ce lo lasciamo Sempre comodo Da queste parti Pettiamo Sender Perla A sto punto Tanti ci serviranno Per l'ancora Ti avuto tutto questo qui Questo qui Questo apposto Perfetto Allora guys Noi ci vediamo In un prossimo video Cui continueremo Questa bellissima lotta Al sorting machine Vediamo se ci riusciamo E niente Enjoy E carina Secondo voi Bye 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 bye